Benvenuti in Lamantino Brothers. Io sono Umberto Croce, un regista documentarista. Oggi parleremo di storage. La traduzione letteraria è magazzino. Infatti, questi due strumenti servono per fare il magazzino delle immagini del set. Allora, pensate, su un set possiamo lavorare in 5, 10, 20 persone. Il lavoro in un'intera giornata è racchiuso in questi supporti. Che differenza c'è? Che questo è un hard disk, molto bello, comodo ed efficiente, ma è garantito solo 5 anni. Se cade c'è il serio rischio di perdere tutto il lavoro di una giornata, di 100 persone che lavorano sul set, di 20, 30, 5. Con il rischio di mettere in serio pericolo il lavoro di molte persone. Questo è un tape, è un disco magnetico, non è un disco, scusate, è un nastro magnetico, è garantito 30 anni. Questo se cade per terra non succede niente. Guardate un po' là. Ecco. Questo significa lavorare con una struttura preparata che può dare valore ai vostri sogni. Buona navigazione.